Come si registra in contabilità l'ammortamento dei fabbricati? Che cos'è esattamente l'ammortamento dei fabbricati? Vediamolo assieme! Cominciamo col dire che cos'è l'ammortamento e poi andremo ovviamente a vedere come si registra l'ammortamento dei fabbricati. Innanzitutto l'ammortamento è legato alle immobilizzazioni. Quindi un'azienda qualsiasi nel corso della sua vita fa tutta una serie di acquisti. Alcuni acquisti di questa azienda saranno riferiti solo e esclusivamente all'anno di acquisto. Per esempio se io acquisto delle utenze, cioè ho dei contratti per esempio per luce e riscaldamento, è chiaro che mi arriverà il documento giustificativo dei canoni che io vado a pagare, cioè le varie fatture, che si riferiscono a un preciso momento, quindi a un preciso mese per esempio, a un preciso trimestre. Oppure per esempio acquisto beni di uso quotidiano, cancelleria potrebbe essere, o mi faccio fare delle consulenze. Ecco che sono tutti acquisti che si riferiscono a un preciso arco temporale, a un preciso anno e quindi andrò ovviamente a registrare in contabilità il costo nell'anno di acquisto. Ma io potrei fare appunto nella mia azienda degli acquisti che in realtà sì faccio quest'anno, ma che in realtà poi vado ad utilizzare non solo quest'anno, ma vado ad utilizzarlo in più anni, quindi anche l'anno prossimo, tra due, tra tre, tra quattro anni. Quindi cosa succede? Succede che non è corretto andare a imputare il costo di acquisto tutto nell'anno in cui appunto acquisto quel bene durevole, ma è più corretto andare a spalmare, a suddividere quel costo di acquisto del bene negli anni di utilizzo. Perché? Perché quel bene mi servirà appunto per portare comunque un apporto, portare redditività, mi servirà in ogni caso anche negli anni successivi. Quindi così come quel bene mi porterà dei benefici, mi porterà magari del fatturato, allo stesso modo però mi genererà dei costi, perché io continuo a utilizzare quel bene. Quindi cosa devo fare materialmente? Non imputare il costo di acquisto nell'anno, tutto nell'anno di acquisto, ma come ti dicevo andarlo a suddividere. Andare a suddividere negli anni di utilizzo di quel bene, tramite un processo che si chiama appunto ammortamento. Quindi l'ammortamento non è altro che la suddivisione del costo di acquisto iniziale di un bene, che può essere materiale o immateriale, quindi tangibile o intangibile, non cambia il concetto, vado a suddividere questo costo storico, questo costo di acquisto negli anni di utilizzo del bene. Ora noi ci concentriamo sui fabbricati, quindi un'azienda compra un fabbricato, come puoi capire, ovviamente questo fabbricato non verrà utilizzato solo quest'anno, ma andrà utilizzato anche l'anno prossimo, tra due, tra tre, tra diversi anni. Quindi è più corretto andare a imputare il costo di acquisto del fabbricato negli anni di utilizzo. Come faccio? Innanzitutto quando io compro il fabbricato abbiamo capito che non devo mettere il costo tutto nel conto economico, quindi che scrittura devo fare? Devo fare una scrittura tale per cui fondamentalmente io vado a imputare quel costo storico non al conto economico, bensì allo stato patrimoniale. Perché? Perché quello acquisto diventa un'attività della mia azienda. Quindi ipotizziamo di comprare un fabbricato, adesso mettiamo valori molto semplici perché l'importante è capire il concetto, quindi tralasciamo tematiche di IVA, se io ho comprato con l'IVA o senza IVA, se l'IVA ha una certa percentuale, una certa aliquota o meno, perché non ci interessa in questa sede. Quindi costo del fabbricato ipotizziamo 100.000 euro. Anche qui poi bisognerebbe specificare cosa va all'interno dei 100.000 euro. Quando tu compri un fabbricato, quello che devi andare tecnicamente a cespitare è il costo di acquisto puro più gli oneri accessori, quindi vai a cespitare per esempio anche gli oneri notarili che hai sostenuto, vai a cespitare anche le imposte che hai sostenuto per acquistare quel fabbricato. Ma diciamo che in questa sede ci interessa capire come ammortizzare il fabbricato. Quindi parliamo dal presupposto che il valore, il valore proprio storico di acquisto di quel fabbricato sia 100.000 euro. E a questo punto cosa devo fare? Vado a fare la mia registrazione dell'acquisto. E per fare la registrazione, come ti dicevo, io dovrò mettere qualcosa in dare e qualcosa in avere. Che cosa metto in avere? Beh, in avere molto semplicemente il debito. Quindi avrò un debito, o comunque ovviamente nel momento in cui faccio il rogito lo avrò anche pagato, quindi avrò debito barra, avrò anche il conto corrente, che sostanzialmente viene meno. Quindi avrò un debito di 100.000 euro se non l'ho ancora pagato, oppure potrei avere un debito verso la banca, perché appunto fondamentalmente ho fatto per esempio un mutuo e quindi devo restituire un mutuo, oppure potrei avere banalmente conto corrente in avere e quindi vado a ridurre il conto corrente. Quello che interessa ora è in dare. Cosa metto in dare? Perché io devo mettere, ovviamente, così come ho messo in avere 100.000, devo mettere qualcosa in dare. Ecco, abbiamo detto che non devo mettere il costo, quindi se questo sarà uno stato patrimoniale, indipendentemente da quello che è il conto che vado a utilizzare a seconda delle casistiche, anche questo dovrà essere uno stato patrimoniale, non potrà essere un conto economico, quindi non metto dare di costo, ma metto dare di attivo di stato patrimoniale e sarà una voce di immobilizzazione fabbricato. E così io ho fatto la scrittura di acquisto del fabbricato, ma a noi interessa la scrittura di ammortamento del fabbricato. E qui subentrano dei ragionamenti da fare, quindi dei ragionamenti in merito a qual è la quota di ammortamento dell'anno specifico di acquisto e degli anni successivi. Ovviamente ci sono diversi ragionamenti dovuti al fatto che devo andare a stimare la vita utile del bene, quindi devo andare a definire oggi, ovviamente a una stima, quanti anni io andrò a utilizzare questo fabbricato. Quindi possono esserci delle stime legate per esempio a delle perizie che sono state fatte, oppure delle stime fatte sulla base di immobili simili. Il concetto è che indipendentemente in realtà poi dalle regole fiscali, vale per gli ammortamenti così come vale per tantissimi altri aspetti, non bisogna inquinare il bilancio civilistico con delle regole fiscali, perché a livello fiscale vengono stabilite delle aliquote di ammortamento, oltre al quale se uno appunto ammortizza oltre, il costo diventa parzialmente indeducibile. Ma se noi ci concentriamo sugli aspetti prettamente civilistici di principi contabili, poi ecco che noi dobbiamo andare a stimare appunto la vita utile di questo fabbricato e ovviamente se io stimo che questa vita utile sia per esempio 10 anni, andrò a suddividere appunto il costo di acquisto di 100.000 euro in 10 anni e farò la relativa scrittura. Quindi anche qui per semplicità ho detto 10 anni, così abbiamo 10.000 euro. La scrittura quale sarà? La scrittura sarà fondamentalmente al 31.12 questa e sarà sempre uguale, a meno che poi ovviamente io faccia ammortamenti decrescenti o ammortamenti accelerati e chiaramente la scrittura è sempre la stessa ma cambia il valore. Quindi in questo caso si presume un ammortamento in quote costanti, vuol dire che ogni anno è sempre la stessa quota. Quindi la scrittura quale sarà? Sarà questa, ammortamento fabbricati, ovviamente qui sì che sarà un conto economico, conto economico di 10.000 euro in dare e come contropartita avrò fondo ammortamento stato patrimoniale, 10.000 euro in avere. Ed ecco che ho fatto la mia scrittura di ammortamento del fabbricato. Ovviamente si sta parlando qui di un conto economico che come sai ogni anno riparte da zero, quindi questo è il costo dell'esercizio di quest'anno, l'anno prossimo caricherò nuovamente 10.000 euro e sarà il costo del prossimo anno e così via. Questo è uno stato patrimoniale, lo stato patrimoniale non riparte ogni anno da zero ma riparte esattamente da dove l'avamo lasciato, quindi se io ho un esercizio secondo l'anno solare 1.1.31.12 all'1.1 io ho gli stessi valori del 31.12. Quindi ipotizziamo di aver fatto questa scrittura al 31.12. è chiaro che io mi ritrovo al 31.12 con fabbricato 100.000, fondo ammortamento 10.000. Io all'1.1 dell'anno successivo avrò la medesima situazione. Quindi cosa vuol dire? Che se poi passa un anno e faccio alla fine dell'anno successivo la scrittura 10.000, 10.000, ammortamento, fondo ammortamento, il fondo ammortamento passerà da 10.000 a 20.000, l'anno successivo a 30.000 e così via fino a quando il fondo ammortamento andrà a pareggiare appunto il costo storico del fabbricato. A questo punto fermo il processo di ammortamento perché lo ho completamente ammortizzato. Poi ovviamente il fabbricato può continuare a essere utilizzato, può continuare a essere nel patrimonio, diciamo, dell'azienda, ma contabilmente avrà un valore pari a zero. Quindi queste sono le scritture da fare. Ovviamente per il resto questo masterino non è interessante in questa sede perché ovviamente o si esaurisce nel momento in cui io ho già pagato tutto con una uscita di banca oppure potrebbe esserci un debito, per esempio un mutuo che via via va a diminuire, però è completamente slegato dal processo di ammortamento. Quindi come vedi le scritture non sono complicate, ovviamente l'importante è andare a stabilire cosa debba essere cespitato e qual è la vita utile del bene. Come puoi capire, un fabbricato c'è poco da ragionare. È chiaro che il fabbricato è un po' l'esempio classico di immobilizzazione, cioè quel bene che appunto io compro quest'anno ma che andrò a utilizzare anche negli anni successivi e quindi vado a suddividere il costo di acquisto negli anni di utilizzo. Bene, questo è quello che devi sapere in merito alle scritture da fare per l'ammortamento dei fabbricati. Come al solito se hai qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità, inseriscila pure nei commenti sotto a questo video se sono a tua disposizione per darti una mano. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, a attivare la relativa campanella per non perderti nessuna delle prossime lezioni che tengo periodicamente su questo canale. e ovviamente se questa lezione ti è stata utile per capire come si fa l'ammortamento dei fabbricati, lascia anche un bel like che sicuramente ti fa molto molto piacere. Da ultimo volevo dirti che se vuoi ricevere in modo completamente gratuito le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità online in cui vado a spiegare come funzionano gli ammortamenti, come si registrano gli ammortamenti, cosa sono per esempio i ratei, i risconti, come è strutturato un bilancio, come si predispone correttamente un bilancio, ecco che trovi il link nella descrizione sotto a questo video, basta che lasci la tua email e riceverai le prime quattro lezioni per farti un'idea se questo corso ti può essere utile per la tua formazione personale e professionale. Per oggi è tutto, ti aspetto alla prossima lezione. Ciao! Ciao!